Buongiorno a tutti e ben tornati. Continuiamo ad imparare nuove parole. Qui vicino a me c'è un tavolino da geometra. Questa è una squadra, vedete, che serve per misurare centimetri. Un centimetro, due centimetri, tre centimetri, quattro centimetri, cinque centimetri, sei centimetri, fino a 35 centimetri. Cavola da geometra. E sentite che sotto c'è un sottofondo musicale. Alla prossima!